I cani che abbaiano del vicino Buongiorno a tutti Mi vedete un po' strano ma in realtà avevo fatto un video tutorial E mi sono svestita e tutto Quindi sto in questa fase dove voglio un attimino Rendermi un po' più umana Allora oggi faccio un video molto flash Perché voglio farvelo vedere dal vivo Un prodotto che Ha svoltato Un prodotto che mi avete visto se mi seguite su Facebook Su Instagram Anche su Snapchat ho fatto questi mini video Che adesso fanno molte mie colleghe youtubers E quindi niente Volevo farvelo vedere dal vivo E questo Direte voi ma cos'è Ha una pinza La quale pinza va messa così Sul cellulare Qui si mettono le pile E' una ring light portatile Fa rumore Fa rumore che E ha tre tipi di intensità Questa è la 1 Questa è la 2 E questa è la 3 Vedete com'è? Vedete com'è? Vedete com'è si illumina il viso E vabbè adesso ho tutte le luci sparaflesciate Compresa la ring light Quella diciamo fotografica Devo dire che le foto Ci vengono benissimo Perché è come se fosse un flash Interno Che però è a parte E soprattutto il fatto che sia Circolare Illumina bene il viso E la cosa che più mi entusiasma E' il fatto che sia comunque Vedete qua c'è la plastichetta Per non ammancare il vetro Ma il fatto che sia comunque E poi a parte Ho visto che diverse Ci sono diversi flash Che si mettono nello spinotto Della corrente Ok ma Io sono sempre stata molto scettica Perché si tende a rompere Quindi no E' bellissima Ma voglio far vedere dove mi è arrivato Allora C'ha la custodia sua Di carta che ho buttato Che non trovo più E poi questa custodia Era stata messa qui dentro Cioè non avevo mai visto Una cosa simile Vedete Cioè questo è fatto apposta Per i pacchi Per i pacchi delicati Per non farli rompere Poi c'era questo Dove c'è il venditore Che ha scritto Grazie per aver acquistato Metti le stelline E poi tutto dentro La classica busta china Allora ci ha messo circa Un mese Per arrivare Un mesetto abbondante No forse anche meno 20 giorni e un mese E' arrivato con la posta normale Sopra c'è scritto anche Gift commercial sample Insomma In modo che nessuno blocchi Dogana Che più? Ah ovviamente dove? Dove? L'ho acquistato su Aliexpress Sapete che io faccio Questi acquistini Così che Messi singolarmente 2 3 1 0 50 Poi facendo la somma Sembrano pochi Però facendo la somma Poi va a finire Che sempre al mese Spendo troppo Infatti adesso Devo iniziare a cancellare L'app In realtà questa qui Non l'ho pagata poco poco L'ho pagata 15 euro Però considerando che La sua funzionalità Cioè Ce la posso fare E' una figata E niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia stato d'aiuto Vi metto nell'info box Dove l'ho acquistata E vi do un bacione E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao